Tutti lo volevano, Celtimar, ma nessuno aveva il coraggio di prenderlo. Eppure figlio di Martino Alonso, fratello di Ramonti, ricordate vagamente, vince sei gare di gruppo, ed ha subito quasi dimostrato di essere degno di questa reale genealogia. E poi era un bottiano, e questa è una garanzia. Ma allora, cosa non andava in questo imponente baio italiano? Era un cavallo da un carattere un pochettino particolare, molto nevrile la mattina, bravo dentro del box, però la mattina ti faceva un po' sudare per andare fuori. Anche qui si dimostra in queste condizioni. Nevrile, tanto, troppo, sempre e comunque. Ma è perché giocherellone, dicono, ma la cosa più importante è che si fa perdonare facilmente. Come? In campo, correndo con tutta la qualità e la potenza che gli hanno tramandato. Ma andiamo con ordine e capiremo di più. Nasce il 5 marzo del 2009. Sotto i colori della scuderia Siba e l'allenamento di Armando Renzoni, debutta a Roma il primo novembre 2011. Ma arriva a Napoli la prima vittoria in una Maiden per i due anni sui 1500 metri della pista grande. Alza il tiro ed è terzo incondizionata. Si alterna poi con prestazioni eccellenti e altre un po' meno in diversi handicap, tra Agnano e Capannelle, ma non delude mai e si mantiene sempre nei pressi del palo. E questo fa gola a molti, soprattutto quando la Siba lo propone all'asta. Diversi corteggiatori, anche siracusani, tentati a investire su di lui. Ma tanto frenati dalle dicerie, poi comunque verificate, sul suo carattere aggressivo è a volta ingestibile. Ma Fabio Broggi, un altro che vive di pane e cavalli, non si lascia certo intimorire da queste cose. Lo commissiona per la signora Giuseppa Latino. Fabio Broggi mi raccomandò di stare molto attento, soprattutto all'uscita dalla pista, perché era, come ho detto prima, un cavallo molto nervoso, voleva andare subito a casa, a fine lavoro. Però poi tutto sommato ha preso qua l'ambiente, l'ambiente della pista, e si è convinto un po' a lavorare come gli altri. A Siracusa si fa sul serio. Celtimar è subito chiamato a un duro confronto. Quello del premio Sicilia, handicap principale per i tre anni, con avversari altrettanto figli d'arte che non stanno lì a renderti la vita certo facile. Come finisce? In sella uno straordinario Gregorio Arena, che nello stupore del team alza la coppa dell'ambito premio. Il cavallo fu acquistato dieci giorni prima dell'handicap principale del 9 dicembre. Passato alle aste, passò in venduto. Fabio Broggi lo propose al signor Latino, al signor Umberto, e fu comprato per Siracusa. L'handicap principale fu voluto dal proprietario, perché il 9 dicembre era una giornata particolare, Fabio era un po' indeciso se fare quella o un'altra corsa, poi su decisione del prodotto proprietario abbiamo fatto l'handicap principale, è andato molto bene. Al di là di ogni aspettativa? Al di là di ogni aspettativa. Problema nella monta, la monta all'ultimo momento, fu montata da Gregorio Arena perché in cambio di un altro fantino, è andato troppo bene. E da lì va via come un treno, così ama definirlo Antonio Germano, caporale di scuderia della signora Latino. Le tappe sono ovviamente tutte condizionate, dai 1200 ai 1400 metri, e che lo vedono sempre ai vertici del podio. Fa eccezione soltanto un non piazzamento in una di queste, ma è colpa del tracciato in sabbia, che a lui non va proprio giù. Nei primi periodi della sua carriera, è chiamato al confronto anche sulla distanza. Con voi si mantiene al di sotto del miglio, è questa la sua dimensione? Secondo me è un cavallo da 1200-1600, perché hanno provato pure a farlo correre sul 1800-3000, però il cavallo è un cavallo molto brillante, è un cavallo che corre d'attesa, è lo spunto finale, la distanza dimostrata a Siracusa dal 1100 al 1600 è andato sempre ottimamente. E poi rigorosamente in erba? In erba soprattutto, perché è stato provato sia a Roma che a Siracusa nella sabbia, non la digerisce tanto. Ed è freschissima l'ultima dimostrazione di ottima forma e condizione del qualitativo soggetto dell'Alca Torre di Canicarau, che proprio il 25 aprile, con Antonio Cannella in cabina di regia, è uscito vittorioso dal duello con la bostiana Super Sascha, portando a casa anche il premio Mirliussac. C'è in programma qualche trasfetta al di là dello stretto? Sai, il cavallo doveva correre l'ultima volta in una condizionata qua a Siracusa, è un problema dentro il box nella notte prima della corsa, l'abbiamo dovuto ritirare e non ha corso. Abbiamo portato a fare questa 1400 del 25 con i problemi che c'erano dell'ultimo ritiro. e l'abbiamo superato e il cavallo si è dimostrato in ottima forma. Quindi cosa dobbiamo aspettarci? Sai, vorremmo fare una trasferta a Roma, però vedendo il programma a Siracusa, che ci sono le corse per il cavallo, dobbiamo ancora decidere, però potrebbe anche andare a Roma. Sempre in evrile è rimasto Celtimar in questi mesi e ne sa qualcosa l'artiere Sebi Fontana che spesso si cura le ferite, ma chissà quanti di quei famosi corteggiatori, oggi con il senno di poi, pensano che nonostante tutto valeva la pena provarci.